Il Papa ha riconosciuto l'eroicità delle virtù di due sacerdoti veronesi, Monsignor Luigi Bosio, per 24 anni, canonico della cattedrale, e Don Giovanni Ciresola, fondatore delle povere ancelle del preziosissimo sangue Cenacolo della Carità. Monsignor Luigi Bosio, Monsignor Giovanni Ciresola, tra i grandissimi, una gioia immensa. E penso una cosa molto interessante. Che Verona ha una caratteristica. Nascono i santi a grappolo, magari facendo capo a uno. Pensiamo per esempio a Don Calabria. San Giovanni Calabria era padre spirituale, era guida spirituale di Monsignor Bosio, di Don Giovanni Ciresola, del venerabile Bardellini, del servo di Dio Don Luigi Pedrollo, a grappoli. E questa è una cosa interessantissima. Adesso per esempio, lo stesso Monsignor Antonini, Bernardo, aveva come guida spirituale Monsignor Bosio, una catena, è un prodigio della providenza di Dio. Papa Francesco ha riconosciuto anche il miracolo attribuito all'intercessione di Benedetta Bianchiporro. Nata a Dovadola, si ammalò di poliomelite e fu per anni studentessa di medicina. Morì a Sirmione, nella diocesi di Verona. Per lei, ora, si apre la strada della beatificazione. È vissuta però a Sirmione per tanti anni e le sue sofferenze sono state portate in modo straordinariamente sublime, proprio a Sirmione, quindi nella nostra diocesi. Ma godiamo anche quella sua diocesi di origine, ovviamente. Adesso con il miracolo si apre la trastatrice, viene riconosciuta anche a livello di beatificazione.